I Tarli Il 22 gennaio 2016 Ore 21 Cinema Teatro San De Mecchio I Tarli Cinema Teatro San De Mecchio Ore 21 I Tarli Ma sei il 22 gennaio 2016 I Tarli Ma sei il 22 gennaio 2016 I Tarli Nooo I Tarli Il 22 gennaio 2016 Ore 21 Al Cinema Teatro San De Mecchio Di Salerno